La campagna ieri ci ha fatto bene, alla fine il corpo riposa un po' e allora oggi mi sono sentito bene, la squadra ha fatto un bel lavoro e io sono riuscito a stare lì davanti e sono contento. Le tue sensazioni dopo quasi due settimane del Tour de France, sei sempre lì davanti? Le sensazioni non sono troppo buone, ho un mal di gambe tutti i giorni, però comunque riesco a stare lì davanti, secondo me siamo tutti uguali, quindi sono contento perché alla fine riesco a fare il lavoro per quella squadra che mi ha portato.